Il capogruppo regionale del PD La Corazza ricorda Vincenzo Verrastro, primo presidente della regione basilicata. A vent'anni dalla morte di Vincenzo Verrastro ricordiamo l'uomo e il politico, ha detto La Corazza, che incrocia una stagione complessa e dialettica, di passione e di impegno civile, che mette le radici al regionalismo in quegli anni 70 in cui la democrazia ha saputo resistere nella dialettica politica di diverse matrici culturali e ideali, a difesa dello Stato e nella messa a valore del territorio e delle autonomie locali. In queste parole la memoria dell'esponente del PD che ha aggiunto queste due tendenze che rendono ancora più forte l'ancoraggio costituzionale insieme all'unicità della Repubblica e alle forme di autonomia e decentramento andrebbero recuperate per mettere più solide basi storiche e culturali al dibattito in corso sull'autonomia differenziata. Sarebbe il caso, conclude La Corazza, che a partire dalla figura di Vincenzo Verrastro si compie questo sforzo e si consolidi una visione di futuro che appare oggettivamente strattonata da una torsione più secessionistica che autonomistica.